I nazisti di Ludwig e il rogo del cinema Eros. A Milano nel 1983 la più grave strage a sfondo politico dopo Piazza Fontana. Il nuovo libro di Saverio Ferrari. La storia di una setta omicida legata a Ordine Nuovo, il braccio armato della strategia della tensione. I nazisti di Ludwig di Saverio Ferrari. Red Star Press Edizioni.